La famiglia La Croce è composta, come vedrete, dal padre, signor Palmiro, ingegnere minerario, Sampognetta, come lo chiamano tutti perché distratto, fischia sempre. E sono tre ore che... Picchio, picchio, picchio! Però lei! E nessuno mi viene ad aprire? Io non lo so, sono qua tutto insanguinato, ho le budella in mano, devo venire a morire in scena e non è facile per un attore brillante. E nessuno mi fa entrare? E dalla madre? Signora Ignazia Oriunda di Napoli, intesa in paese come la generale. Vi pare possibile qui davanti, fuori da ogni quadro, senza alcun ordine? Ma non importa, non importa! Ma come non importa? Che vuole che ci capisca il pubblico? Ma capirà, capirà molto meglio così. Ci verrà molto più facile e naturale, senza l'impaccio e il freno di un campo circoscritto, di un'azione preordinata faremo. Faremo anche tutto quello che lei ha preparato. E da quattro belle figole, vivaci e sentimentali. Mommina, Mommina, Totina, Torina, Mommina e Nenè. E Nenè. Musica! Musica! Però un bel Dì di maggio, va, le gemmerano in fiore, va, ed anche nel mio cuore, va, sbocciato era l'amore, va, Così ho confessato, la brava e il desiderio a lui. In quel valdì di maggio, il canto degli uccelli, nell'anima è che giova, vibrante di passione. Così ho confessato, la brava e il desiderio a lui. Lo vedi, è vero, gli stessi sentimenti, gli stessi pensieri, li tredevi cancellati in te, spenti, non è vero? Il più piccolo richiamo è riempoli in te, vivi quegli stessi. No, niente li richiama! Vivi che c'è la vita bella, la vita bella, la vita bella. Ci fa ascoltare a me soli lo spasso delle figli. Ciao, ciao! Ciao, ciao!